Furti, rapine, ma soprattutto colossali truffe e danni di imprenditori. E nella loro rete sono caduti anche tre immobiliaristi veneti, uno dei quali, residente in centro storico a Venezia, con attività edilizia a Jesalo, che ci ha rimesso quasi 500.000 euro. Otto i cittadini di etnia assinta, arrestati dalla squadra mobile di Brescia, che ha stretto le manette ai polsi anche di Romeo Udorovic, detto Emanuele, 37 anni di mestre, risultato è l'appunto di riferimento lagunare dell'organizzazione, composta da soggetti nullatenenti e nullaffacenti, ma con grandi disponibilità economiche. Stiamo procedendo a sequestrare lussuosi ville sul lago di Garda, beni di ingente valore economico e soprattutto autovetture di lusso, delle supercar come Porsche, Ferrari, Jaguar, per un valore complessivo pari a circa 8 milioni di euro. I nomadi si presentavano come facoltosi uomini d'affari o addirittura sceicchi provenienti dal Medio Oriente. Si fingevano interessate all'acquisto di strutture macchinari e soprattutto si fingevano disponibili a cambiare banconotte di grosso taglio. A loro si rivolgevano gli imprenditori, molti dei quali con la speranza di riuscire ad investire e riciclare magari soldi guadagnati in nero. Non a caso le vittime che venivano raggirate esitavano a denunciare, temendo di subire, oltre al danno per la truffa, anche la beffa di guai con il affisco.